Il tono delle celebrazioni sarà quello inaugurato domenica scorsa in San Pietro con le palme che agitavano l'aria immobile della Basilica. Essenzialità e rigore per il triduo pasquale in tempo di pandemia. Riti senza la presenza dei fedeli, se non pochi sacerdoti, trasmessi in diretta televisiva per consentire a tutti di seguire le liturgie. Gli sguardi del Cristo di San Marcello al corso e quello della madre nell'icona della Salus, popoli, romani, a sorvegliare il silenzio e il vuoto tra i marmi. Giovedì santo il Papa presiderà solo la messa in cena domini alle 18 dall'altare della cattedra senza il tradizionale rito della lavanda dei piedi già facoltativo. Sarà la prima volta dalla sua elezione che celebrerà il rito in San Pietro avendo sempre preferito luoghi periferici e simbolici abitati dagli ultimi. Venerdì santo la celebrazione della passione e l'adorazione della croce sempre alle 18 nella Basilica. Solo il Papa bacerà il crocifisso per ovvie ragioni di precauzione. Poi la sera una via Crucis singolare alle 21 con le stazioni posizionate lungo il colonnato del Bernini intorno all'obelisco e sul sagrato della Basilica di San Pietro. Presenti alcuni detenuti del carcere due palazzi di Padova a cui il Papa ha affidato il compito di scrivere le meditazioni e un gruppo di medici e infermieri in prima linea nella lotta al virus. La veglia del sabato santo sarà alle 21 con pochi scarni gesti come il suono delle campane al momento del gloria che annuncia la resurrezione. Stessa sobrietà per la domenica di Pasqua che verrà celebrata alle 11 dall'altare della cattedra al termine della quale il messaggio urbi e torbi e la benedizione. Accanto alle celebrazioni in Mondovisione la liturgia domestica indicata questa mattina dal Papa per vivere durante l'isolamento la settimana santa. Lo sguardo implorante al crocifisso e la lettura del Vangelo.